Nella mattinata di giovedì 20 giugno, personale della DIGOS della Questura di Torino ha eseguito diverse perquisizioni delegate dalla locale autorità giudiziaria presso l'abitazione dei referenti ed alcuni militanti di Forza Nuova Torino. È stata inoltre perquisita la sede torinese del predetto movimento di estrema destra e quella dell'omologo sodalizio da area Rebel Firm di Ivrea. L'attività d'indagine per il reato di apologia del fascismo scaturiscene dall'episodio lo scorso 22 maggio, in corso Unità d'Italia, di uno striscione con la scritta Spezza le catene dell'usura, vota fascista, vota Forza Nuova, seguita dal simbolo del fascio dittorio. La foto dello striscione, ritraente l'azione criminosa, era stata successivamente postata sul profilo Facebook di Forza Nuova. L'attività investigativa della DIGOS di Torino è stata poi estesa al suo delizio poridiesi di estrema destra al Rebel Firm per la contiguità e le interconnessioni con il leader del locale movimento Forza Nuova e con i referenti di suo delizio d'area oltransista di altri contesti territoriali, quale la comunità militante dei 12 raggi Dora. Quest'ultima era già stata oggetto di un'indagine svolta dalla DIGOS di Varese nel 2017, culminata con la chiusura e il sequestro della sede e il deferimento degli oltre 50 aderenti per ricostituzione del partito fascista. Il noto leader di Dora, insieme ad altri militanti d'area già noti per radunata sediziosa e apologia di fascismo e i principali referenti di Forza Nuova di Torino e Piemonte, era stato uno dei protagonisti dell'inaugurazione della sede di Rebel Firm in una località agricola di Ivrea lo scorso 1 giugno.